Quali sono le prime mosse da fare quando il computer non lavora bene? Allora, guarda, il consiglio più banale è eliminare quello che c'è dentro il cestino con il tasto destro del mouse svuota cestino. Si possono eliminare i file temporanei di internet con l'apposita opzione dedicata a elimina file e allo stesso modo si può andare sui file temporanei del computer stesso dove troveremo un'opzione che dice pulitura disco e che comprime tutti i file per risparmiare appunto spazio sul disco. Oltre a questo che cos'altro? Allora, sotto le proprietà sempre del disco troviamo la defraimentazione dei file, ovvero non viene cancellato niente, in questo caso viene soltanto risistemato tutto ciò che in anni e anni di uso magari può essersi un po' spostato, mettiamola così. Per rendere il computer ancora più performante consiglio di andare a risparmiare fatica. Cos'altro si può fare anche fuori da Windows? Esistono dei programmi da scaricare gratuitamente per ripulire il registro e l'hard disk in maniera automatica sostituendo file corrotti.